Non schiacciatemi, non schiacciatemi Ragazzi sono vivi incredibilmente Omer del bus Ciao a tutti ragazzi qua Dexta Oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online E siamo ritornati con un nuovo Death Run E quello insomma ragazzi Delle valanghe dove ci sono tantissimi oggetti Che volano e colpiscono i nemici Pensavo dovessimo correre invece no C'erano già gli oggetti, hanno fatto cadere tutto Vediamo un po', mamma mia esplosioni incredibili Cosa c'è un dump, un aereo Ambulanze, guardate quanti Bus, ragazzi guardate Cosa ho ridotto in poltia 1 Ma se non ho fatto nulla, ragazzi Ho ridotto in poltia 1, va benissimo Non lo so, c'è qualcosa di strano, comunque Troppi bus, ancora Ancora bus, è incredibile ragazzi Comunque forse sono morti quasi tutti Non lo so però un sacco di gente È stata distrutta, forse Ne ho ucciso un altro, ragazzi non lo so Cioè è incredibile Allora da quel che vedo dall'altra parte Quindi esattamente lì ci sono insomma Gli RPG che ovviamente potranno Prendere, noi siamo completamente fermi Non potremmo fare nulla, quindi ovviamente Ragazzi verremmo fottuti Cos'è? Quello si è buttato, perché? Non lo so, ma forse per non morire Per non farsi uccidere dagli altri Oh merda ragazzi, qui esploderemo tutti Spariamogli un po' anche se ovviamente Non possiamo fargli nulla Merda niente, dovrebbero prendere a fuoco Ma niente ragazzi siamo fottuti Via 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 Via, stiamo qui tranquilli Mi butto oppure no? Vabbè dai non mi butto Però so già che morirò Per forza ragazzi Attenzione Il primo forse era stato colpito Mettiamoci qui all'angolino Attenzione niente È esploso tutto Sono morto per forza Non c'è l'alternativa ragazzi E infatti abbiamo perso il round Tutta la mia squadra è morta Ma devo dire che Cioè è strano Tutti quei bus Avrebbero dovuto travolgere Tutta la squadra nemica Però niente da fare Sono morti soltanto alcuni Tra l'altro alcuni sono morti Senza che io abbia fatto nulla Però va bene così Secondo round Adesso saremo i runner Quindi dovremmo correre Praticamente E non farci colpire Soprattutto dei vari bus Eccetera E qui ragazzi non c'è Oh merda Cos'è? Stanno già cadendo delle cose Cazzo andiamo via Allora quel container lì Dovrebbe muoversi Quindi non è un buon riparo Per nulla Allora mamma mia Stanno arrivando già le cose Attenzione c'è il dump Via Ambulanze Attenzione Ok ragazzi Uh il bus Il macello Mi hanno devastato Ragazzi stava laggando tutto Avevo schivato il dump L'ambulanza Poi cazzo mi hanno fottuto Cioè impressionante Ok perfetto Questo round l'abbiamo vinto Soltanto un compagno È riuscito ad andare avanti Tutti gli altri sono morti Incredibile Terzo round Avanti Adesso voglio subito sparare Insomma ai vari oggetti Così magari Insomma ucciderò qualche persona Misteriosamente Allora prendi qualcosa Vai subito il dump Vai giù Perfetto Ho colpito la ruota È voluto via il piccolo razzo Allora praticamente c'è il dump L'aereo E poi tutti i fottutissimi bus sotto Che vanno insomma avanzando Cioè vanno cadendo ragazzi Veramente devastante Guardate esplode tutto Vediamo se qualcuno muore Sì qualcuno deve morire per forza comunque C'è quel bastardo che forse voleva spingermi Cioè non scherziamo Cioè incredibilmente finora è soltanto morto Un giocatore Un compagno si è suicidato Non si sa come E c'è un altro che forse sta salendo da questa parte Vediamo un po' Sì ragazzi Vabbè non possiamo fare nulla Siamo fottuti Cioè se prendono Niente ragazzi Sono sopravvissuti tutti Ma com'è possibile Allora a quanto pare un nemico Non si sa come È sopravvissuto Alla caduta O qualcosa È nel laghetto Forse non lo so Non ho idea E poi ci sono gli altri Che stanno già arrivando Ma c'è uno ragazzi Proprio giù Sotto la rampa Veramente stranissima come cosa Allora hanno preso gli RPG Ragazzi io mi butto Vaffanculo Andiamo via Buttiamoci Andiamo Vediamo un po' Di sopravvivere nell'acqua Se ci arrivo Non lo so Sono morti tutti i miei compagni No muoio per forza nell'acqua Vediamo un po' Attenzione Ok devastato Vabbè che ho sbattuto nel fondale Comunque sia Niente Dovevo morire per forza Questa volta Mi sono buttato Così cambiamo un po' La nostra morte Attenzione Un compagno è sopravvissuto Com'è possibile Cioè di solito ragazzi Si muore da quella distanza Guardate Sono uno contro uno Ora Cioè c'è l'unico L'unico compagno Sopravvissuto Che ora dovrà Dovrà prendersi a pugni Con l'altro Perché ovviamente Non hanno armi O per meglio dire C'è il nemico buggato Che è finito lì Che non ha armi Quindi di conseguenza Si prenderanno a pugni Non lo so Comunque il round è perso per forza Attenzione c'è anche un altro Forse che è arrivato Nell'acqua E se quello Eh infatti Niente Quella va all'RPG Allora buttando Buttandosi nell'acqua Non si muore Nonostante l'altezza Sia proprio incredibile Comunque sia Questo round L'abbiamo perso Vabbè praticamente Vince sempre chi corre Ovvio Ed eccoci qui Con il quarto Allora questa volta Proverò ragazzi A sopravvivere Anche se avete visto Prima che c'era Veramente il macello Oh attenzione Ma che cazzo è i troll Cioè quelle cose prima Erano cadute Non lo so Comunque ragazzi Dobbiamo assolutamente sopravvivere Stiamo calmi Concentriamoci un po' Cazzo arriva di tutto Pure l'aeroplano è esploso E attenzione Il dump Oh merda Passa qui Ragazzi sono vivo Non schiacciatemi Non schiacciatemi Ragazzi sono vivo Incredibilmente Oh merda il bus Ecco qui Ero rimasto vivo Ero rimasto vivo Ma ovviamente è arrivato il bus Alla fine Allora qui sopravvivo No vedete io sono morto Cadendo nell'acqua Io muoio Gli altri invece bui Riescono a sopravvivere Non lo so No comunque è veramente assurdo Cioè ero rimasto vivo E il dump mi era passato sopra Pure l'ambulanza Ovviamente poi è arrivato il bus Tutto disintegrato Che mi ha colpito E sono volato via Comunque niente Spero che i miei compagni Riescano a fare qualcosa Ma penso proprio di sì Dato che sono sopravvissuti in molti Allora hanno preso gli RPG Alcuni sono già morti E mentre qualcuno ovviamente Si è buttato Si è buttato nel laghetto Volevano farsi una nuotata Ma li devasteranno Guardate ragazzi Guardate la precisione Come spazio Quello si è buttato di precisione Ecco qui Round vincitore Vabbè niente I runners vincono sempre Ormai ragazzi È confermato Però nonostante tutto Io muoio sempre Cioè a prescindere Quinto round Allora vediamo un po' Se adesso i bus Insomma riusciranno a fottere qualcuno Allora vai Sparo subito Al dump Ok colpito come prima E anche il jet ragazzi È caduto giù L'aereo lì Oh merda Stavo quasi per cadere Guarda quel bastardo Questo qui ragazzi Vuole spingermi Sicuro Allora Sta esplodendo tutto Però insomma Ancora non muore nessuno Guardate l'aereo Che vola lì Incredibile Vediamo Vediamo un po' Altri dump Ancora bus Bus proprio infiniti Ce ne sono troppi Questo è confermato ragazzi Questo è confermato ragazzi Allora niente Purtroppo sono morti in pochi O forse tutti si sono insomma Buttati Buttati nel laghetto Credo proprio di sì Che cazzo un compagno si è buttato Vabbè vorrei provare anche io a buttarmi Questa volta Però Dove mi butto? Cioè forse da questa parte Dovrei farlo ragazzi Allora vediamo un po' Si stanno già arrivando Ai fottutissimi RPG Quindi devo tentare ragazzi Il volo Devo provare a volare Dai ci proviamo Non lo so Vabbè Aspettiamo un attimo Aspettiamo un attimo Quello dov'è esattamente Eccolo lì Sta arrivando agli RPG Ragazzi io mi butto Via fanculo a tutti E buttiamoci Allora questa volta Dovrei ragazzi Esattamente cadere bene Senza sbattere nel fondale Vediamo un po' Ok sono sopravvissuto Incredibile Ce l'ho fatta Ragazzi sono riuscito a sopravvivere Allora vediamo un po' Ok ci sono già dei nemici lì Io tanto ho la pistolina Quindi dovrei riuscire A fregarli senza problemi Allora prendi la pistolina Vai fotti questo Ok perfetto ragazzi Quello è morto Uh qualcuno ha preso la pistolina Guarda quel bastardo No cos'è Cos'è ragazzi Si è teletrasportato Era davanti No era davanti E poi è passato indietro Non è normale Comunque ne ho ucciso uno Questo tetteraner Ragazzi è veramente Veramente assurdo Cioè è qualcosa Ne hai mai visto proprio Adesso non si gioca più Nelle rampe O a farsi uccidere Dai vari bus eccetera Adesso si gioca Lì nel laghetto A darsi colpi di pistolina E abbiamo perso Sesto round Allora dai Ho un'altra occasione ragazzi Per sopravvivere Ne ho un'altra Allora Che cazzo è Vedete No vabbè Non è possibile Mi è già caduto il container Sopra Senza neanche aver iniziato Non è normale Allora Partiamo Io dovrei cercare Non c'è ragazzi Un punto di riparo Qualcosa Non c'è nulla Vediamo un po' Forse posso stare qui tranquillo Stiamo Stiamo qui Tentiamo questa strategia Tentiamola Tentiamo Guardate C'era l'aereo Buggato Mamma mia L'ambulanza Mi ha colpito Dai sono ancora vivo Adesso però non deve arrivare più nulla Oh merda Invece stanno arrivando tantissime altre cose Cazzo Stiamo coperti qui ragazzi Stiamo coperti Dai che ce la posso fare Dai che ce la posso fare Non colpitemi Mamma mia La ruota gigante del dump Oh cazzo Oh cazzo il bus Mi ha colpito ragazzi Sono ancora vivo Sono ancora vivo Bastardi L'ambulanza Mi schiaccio ancora Ragazzi sono sopravvissuto Incredibile Ce l'ho fatta Allora cerchiamo di andare avanti Di prendere qualche RPG Anche se i miei compagni Sono più avanti Quindi sicuramente Uccideranno tutti loro Però l'importante Dai che sono sopravvissuto Ragazzi Morivo sempre Non era possibile Ancora cadaveri Che volano giù Mamma mia Ok stanno già sparando Con gli RPG Infatti hanno distrutto Hanno distrutto Quasi tutti Si ragazzi Niente Allora c'è soltanto Forse un sopravvissuto Nel laghetto Va bene Io voglio prendere Un RPG Niente se mi sono fottuti tutti Ok vai Ne ho preso uno Perfetto Dove cazzo è quel bastardo Dove è quel bastardo Che gli sparo Fatemi dare un colpo Vediamo un po' ragazzi No ma non lo posso prendere Assolutamente Va bene Allora mi butto giù Tento Tento l'impossibile Via Buttiamoci ragazzi Vai 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 Dobbiamo finire Dobbiamo finire nel laghetto No non ce la posso fare Non ce la posso fare Forse si Forse si Dai sopravvivi Attenzione Sono morto Perché Non c'era il fondale Non ho colpito nulla ragazzi E questa volta sono morto Prima no adesso si Forse perché Mi leva un po' di vita Io già ne avevo poca Forse per questo Non ne ho idea Comunque quello lì Non c'è modo di ucciderlo A meno che qualcuno appunto Non vada a prenderlo Esattamente lì sotto Perché stando sotto la rampa Non potevamo sparare Quindi Potevo soltanto provare a buttarmi Però Niente da fare Non ci siamo riusciti Un'altra cosa forse Che si poteva fare Era scendere di nuovo Nella rampa Nel punto in cui Insomma abbiamo iniziato E buttarci lì L'hanno giustiziato Addirittura Mamma mia E abbiamo vinto Quest'altro round Ed eccoci qui Con il settimo Allora Ormai siamo arrivati Praticamente alla fine Probabilmente perderemo noi Perché La squadra avversaria Ha iniziato come runners Di conseguenza I runners vincono sempre i round Quindi Sicuramente Perderemo la partita Per questo motivo Allora spariamo sempre al fottutissimo dump Tanto aspettare Non ne vale la pena Ok sta già cadendo tutto ragazzi Perfetto Le esplosioni incredibili Uh c'è un bus Quello è volato Ok quello che voleva buttarmi giù Finalmente è andato a farsi fottere Alla fine c'è rimasto fottuto lui Allora Vediamo un po' ragazzi Stanno cadendo già varie cose In tanti sono morti Guardate un po' Stavano morendo tutti Però Lì Qualche sopravvissuto ovviamente c'è Non vorrei però che siano insomma Nel laghetto Nella strada No credo di sì Sì ragazzi Cioè sono totalmente Niente da un'altra parte Niente sono sopravvissuti E a questo punto A questo punto niente Dobbiamo buttarci E andare di pistolina Sì perché nessuno potrà arrivare Agli rpg Quindi via Buttiamoci ragazzi Ma cerchiamo di sopravvivere Così li fotteremo al massimo Andiamo un po' Sì dovrebbero essere tutti Esattamente giù Dai non morire Non fare scherzi Ok vai Siamo sopravvissuti Allora Qualcuno è nascosto al radar Dove siete bastardi Andiamo un po' Ecco qui ce n'è uno Vai Oh merda No dove era la mia pistolina Ragazzi perché non avevo la pistolina in mano Cioè bastardo esci dall'acqua Devi prendere la pistolina Invece non l'ha presa Niente comunque siamo morti Vabbè Allora si stanno prendendo tutti a pugni La mia squadra però È in netto vantaggio Guardate i cadaveri Mamma mia Vai devastateli Perfetto ragazzi Li stanno uccidendo tutti L'abbiamo vinto No c'è l'ultimo sopravvissuto Vai fotti questo bastardo Ok l'hanno ucciso Comunque il lag Che cazzo è Che cazzo è ragazzi No ma il lag è disumano comunque Niente dovremmo aver vinto anche Questo round Attenzione però Abbiamo vinto il round ragazzi Non essendo dei runners Questa è una cosa fantastica Quindi forse potremmo vincere la partita Abbiamo vinto la partita No incredibile ragazzi Allora se avessimo perso questo round Avremmo perso la partita Invece Nonostante non fossimo dei runners Buttandoci giù Andando a prendere quei bastardi Insomma abbiamo vinto Anche se io non ho ucciso nessuno Però comunque sia Ce l'abbiamo fatta Qualche uccisione ragazzi In questo netto run Non l'ho fatto Un po' casuale Un po' con la pistolina Però ci sono riuscito Comunque è stato veramente Un netto run incredibile Assolutamente pazzesco Dato che poi Si giocava in maniera alternativa Perché si andava nel lago Comunque sia Io spero che il video vi sia piaciuto Qui da extra lasciate un mi piace E ci vediamo al prossimo video